Mi sono incollata qua nella colla della sabbia e brucia un po', però mi fa più male sapere che il governo non sta facendo niente per proteggere la cittadinanza, mi fa più male sapere che i bambini che nascono oggi moriranno in catastrofi e eventi estremi per cui il governo non sta facendo nulla, i cittadini dell'Emilia Romagna non sono arrivati, noi siamo qua per batterci per tutte e per tutti, perché la prossima casa potrebbe essere la nostra. Però ancora, non capiamo che è il momento di entrare nel senso civile perché niente altro funziona. Siamo qui oggi a bloccare nuovamente la quotidianità, una quotidianità che è fatta di alluvioni, grandinate, incendi, siccità, una quotidianità in cui le persone continuano a morire in mare, in cui ci sono guerre, in cui ci fa fatica ad arrivare a fine mese e intanto le persone che fanno presente questa situazione vengono incriminate e represse dalla polizia.